partiti all'inizio della curva è sempre in vantaggio liberi scatti davanti a Cassiano Fan King Fighter San Vicenzo Change of Moon e Bridge Aniaf poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio liberi scatti davanti a Cassiano Fan, King Fighter e Change of Moon i cavalli entrano in dirittura con liberi scatti in vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Cassiano Fan seguono King Fighter a centroquista Change of Moon per linee interne San Vincenzo e Bridge Aniaf passa a Cassiano Fan attaccata all'esterno da Change of Moon seguono San Vicenzo Bridge Aniaf liberi scatti passa a Change of Moon con all'interno Cassiano Fan a centroquista Bridge Aniaf torna in vantaggio Cassiano Fan davanti a Change of Moon Bridge Aniaf e San Vicenzo testa, testa vibrante alla fine c'è la panca Cassiano Fan a mantenere i vantaggi nei confronti di Change of Moon erano le tre tre attesi però è l'ordine inverso a quello che ci saremmo aspettati mannaggia la puntata via via parte qui sta calmo radio sta calmo radio si, si, si si, si perché finirà il momento giorno di domenica di domenica